Chemigen, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. A Rieti e in tutto il centro Italia. Esperienza e qualità da oltre 40 anni. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat è di il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabricanti. Sognare, inventare, costruire. Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto C-Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone. In modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com www.rietilife.com Per l'uomo, la donna e per l'uomo, la donna e per l'uomo. Eccoci, bentornati, la rana nel pozzo. Rieti Life TV, grazie per gli ascolti. Ve lo ripeto sempre, ve lo ripeterò ogni volta. Grazie, ci state regalando veramente degli ascolti record, soprattutto in alcune nostre trasmissioni. Allora, andiamo subito nel vivo, non perdiamo tempo perché oggi è una puntata, credo, importante. Ospite qui alla rana nel pozzo, Simone Petrangeli. Come sta Petrangeli? Bene, grazie dell'invito. Grazie a lei per l'avere accettato. Sa, la trasmissione impone delle forme, le tarò del lei. Se me lo permetti ti darò del tu, se è possibile. Grazie, grazie. Anche con Petrangeli, conoscenza forse ultraventennale. Il tempo passa, purtroppo. Il tempo passa, però come la sta vivendo questa cosa del tempo passa? Vabbè, purtroppo è inesorabile, quindi bisogna conviverci. Ci conviviamo, ci conviviamo. Bene, cerchiamo di conviverci bene. Assolutamente. Allora, Petrangeli, ho una marea di domande da farle. Chissà saprò le risposte per tutto. Vediamo, sicuramente sì. C'è una domanda che sta circa a metà della nostra scaletta, però non ce la faccio. Ah sì, eh? Sì, è più forte di me. Forse non sono pronto allora a rispondere. O forse è già capito che domanda. Non lo so, perché insomma potrebbero essere tante quelle. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ha visto c'è stata la candidatura del centrodestra ufficiale Daniele Sinibaldi, che lei conosce abbastanza bene, no? Certo, come no? L'attuale vicesindaco. Perfetto. Allora, tutti si chiedono in questo momento il centrosinistra che cosa fa. E il suo nome è sulla bocca di tutti, su tutte le riunioni, questo glielo do io per certo. Sia di centrodestra che di centrosinistra c'è il suo nome. Come si pone? Sarà lei il candidato del centrosinistra? Innanzitutto sarebbe più interessante sapere se il mio nome sta sulla bocca di tutti nelle riunioni, nelle famiglie. Perché poi quelli che votano sono gli elettori e sono le famiglie. Quindi sarebbe utile capire cosa ne pensano i cittadini e le cittadine di Rieti. Se c'è questo Vox Populi non può che farmi piacere, però dobbiamo essere consapevoli che le scelte politiche devono essere ponderate e devono essere anche conseguenza di percorsi. Se io credo che il centrosinistra stia lavorando bene, il campo largo del centrosinistra stia lavorando bene perché ha messo in piedi dei tavoli tematici che ci permetteranno da qui a poco di stilare un programma e dei valori condivisi, naturalmente l'ufficializzazione della candidatura del centrodestra e della destra ci impone di stringere i tempi anche sull'individuazione di chi dovrà guidare la coalizione alle prossime elezioni. Che vuol dire stringere i tempi? Stringere i tempi significa che siamo in ritardo? Non è che siamo in ritardo, io penso che sia giunto il momento di lavorare affinché i cittadini di Rieti sappiano come il centrosinistra si vuole proporre alle prossime elezioni comunali. Io penso una cosa però, che non sia sufficiente individuare un candidato o una candidata. Io credo che sia necessario individuare una squadra, un gruppo di persone che si mettano al lavoro per il bene della città. Noi lo andiamo dicendo da tempo, riteniamo che il metodo migliore per individuare il candidato o la candidata sindaco siano le primarie, primarie che però ci devono servire ad individuare anche una squadra capace di lavorare insieme. Il campo largo del centrosinistra è tale se è inclusivo e quindi non ci devono essere veti, la leadership deve essere contendibile, per questo è giusto che si facciano le primarie, ma la leadership deve anche essere condivisa. Per questo io dico che serve un gruppo, una squadra che guidi il centrosinistra, una persona sola non è sufficiente. Bene, la puntata potrebbe finire qui perché... Arrivederci. Arrivederci. Ci ha detto già tutto, no? Andiamo a vedere bene. Quindi lei è per le primarie, non è insomma una novità. No, assolutamente no. Mi sembra di aver capito che non tutto il centrosinistra sia per le primarie, giusto? Beh sì, in diversi hanno espresso un parere diverso. Io ho sempre detto che sia necessario, che è necessario individuare la proposta politica elettoralmente più convincente ed elettoralmente più competitiva. Per farlo bisogna che tutti si mettano a disposizione. Siccome sento alcuni dire che insomma alcuni dovrebbero fare dei passi indietro, io dico che è necessario il contrario. C'è bisogno di fare un passo in avanti, tutti devono fare un passo in avanti. Mi dice chi sono questi alcuni e gli altri alcuni. No, questo non lo dico, però siccome è una cosa... Ha riferito a lei? Alcuni ha riferito anche lei. O ad altri. Io credo che sia un errore discutere di questo. Io penso che sia necessario discutere di come far fare un passo in avanti a tutti. Sono stati fatti tanti nomi in questo periodo, tutti autorevoli, tutti importanti, tutti degni di considerazione di uomini, ma anche di donne. Io credo che tutti debbano partecipare a questa sfida elettorale e penso che tutti debbano far parte della squadra. Chi dovrà fare l'allenatore è bene che lo scegliano i cittadini. Quindi io penso che la cosa migliore sarebbe fare primarie davvero allargate a tutti e a tutte, permettere ai cittadini di riedi di scegliere, ma fare in modo che le persone che si confrontano alle primarie siano dentro la squadra e siano i primi ad avere anche ruoli apicali. Perché c'è bisogno anche di ricostruire questo clima di comunità all'interno della coalizione e all'interno del campo largo. Parliamo di primarie perché ne riteniamo il metodo e lo strumento più utile che garantisce partecipazione e soprattutto garantisce l'unità della coalizione, che io ritengo essere un valore, e intorno alla quale dobbiamo in qualche modo convincere tutti, non solo noi al nostro interno, ma i cittadini della nostra città. E questa è una sua visione, penso, condivisa da molti, ma alcuni pensano però che le primarie non siano proprio questo tipo di strumento, ma siano uno strumento per dividere, anziché unire. Allora, è evidente che qualsiasi strumento ha i suoi pregi e i suoi difetti. Secondo me sarebbe molto più divisivo imporre un candidato dall'alto. Le primarie non sono divisive nel momento in cui si stabilisce sin da subito che tutti quelli che vi partecipano staranno dentro la squadra ed avranno dei ruoli apicali all'interno della futura amministrazione nel caso in cui si vinca. Questo è chiaro, ci torniamo su questo perché... È un elemento che ci permette di costruire la leadership contendibile, perché si faranno nei primari, ma soprattutto condivisa. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che costruisca una squadra e abbia intorno a sé una squadra. Io credo che fare le primarie, prendiamo l'esempio di Roma, i tanti candidati che si sono confrontati alle primarie adesso stanno dentro la squadra di Gualtieri e ognuno avrà un ruolo. Questo significa che le primarie servono anche a questo, a costruire un gruppo e a comporre la squadra. Abbiamo una partita difficile da giocare, c'è bisogno che tutti i nostri fuoriclasse siano in campo. Bella questa cosa dei fuoriclasse. Adesso continuiamo a parlare del centro-sinistra, poi ovviamente voi vi dovete contendere la patrana della sindaco e il centro-destra. Assolutamente sì. Allora, una cosa però, questo dall'alto, ma a me è sempre incuriosito. Le scelte dall'alto, no? Veniamo a Rieti, quale scelte potrebbero esserci, magari non democratiche e divisive, anzi in confronto con le primarie, quello che ha detto adesso, che potrebbero esserci? Cioè, il dall'alto che cosa vuol dire? Io quando dico scelte dall'alto significa scelte che non siano condivise. Da Roma, avete mai sentito? Da Roma ci dicono, l'Europa ci dice. No, qui come funziona? Io voglio capire. No, dall'alto è un modo di dire quando ci sono delle scelte che non maturano all'interno del gruppo di persone che se ne sta occupando e quando in qualche modo sono scelte non digerite da tutti e che non garantiscono l'unità. Se c'è una candidatura che non è... Non si fa quasi mai più. No, no, infatti io l'ho detto come caso di scuola, tu mi hai detto le primarie sono divisive, io ti ho risposto non esiste un metodo perfetto, perché non esistono le cose perfette in questo mondo per fortuna, io ritengo che siano sicuramente meno divisive le primarie, perché le primarie permettono di individuare un candidato che ha una legittimazione popolare, che non è poco. Molto più divisivo sarebbe individuare il candidato X, perché per una serie di ragionamenti slegati dal consenso popolare e dalla partecipazione dei cittadini. Anche perché... Napolitano in grau gli otti, non si fa più uno, tre, sette... Ma perché è finita quell'epoca, perché purtroppo, e lo dico, purtroppo, chi sta dentro i partiti è una minoranza all'interno degli elettori, quindi credo che sia necessario chiedere agli elettori un parere. Poi è evidente, se ci fosse una personalità in grado di convincere tutti, in grado di rappresentare dal punto di vista elettorale una soluzione competitiva e potenzialmente vincente, probabilmente già sarebbe stata individuata. Io penso che le primarie siano comunque un metodo che vada utilizzato. Nicola Zingaretti, quando gli hanno chiesto di fare il candidato a Roma, ha detto sì, io lo faccio, ma sicuramente vorrò passare per le primarie, perché, anche lui disse, è necessario che il candidato sindaco abbia una legittimazione popolare. Quindi, anche a Rieti... Zingaretti è forte, dice vado alle primarie. Eh beh, che significa? È un proforma. Però, appunto, avrebbe potuto dire non faccio le primarie. Lo ha detto perché... Beh, è un proforma, però capisce, ha capito, sa che le primarie servono a legittimare il candidato e soprattutto a suscitare partecipazione. Noi abbiamo bisogno di rilanciare il coinvolgimento in prima persona dei cittadini e delle cittadine. Noi veniamo da una consultazione elettorale amministrativa, dove c'è stato il 50% dei cittadini che ha scelto di rimanere a casa e di non votare. Questo è un dato drammatico per la democrazia del nostro paese. E io penso che strumenti di partecipazione siano necessari per rinsaldare il rapporto tra elettori eletti e il rapporto fra la politica e i cittadini. Altrimenti, anche a Rieti, rischiamo di avere una percentuale altissima di assenzionismo. E questa è la cosa che non ci possiamo permettere. Sono in molti a parlare, a livello internazionale, di democrazia senza popolo. È uno simolo, perché la democrazia è il potere del popolo, come va a essere senza popolo? Però rischia di essere tale una democrazia dove va a votare il 40% della popolazione. Questo significa che oggi la maggioranza della popolazione è arrabbiata, non si sente rappresentata e soprattutto è sola. Si sente sola rispetto al potere. Quindi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per ricostruire un ambito comunitario, per ricostruire un senso di appartenenza. E io penso, noi pensiamo, che le primarie possano contribuire a fare questo. Un discorso di sinistra questo. È strano, dici? No, no, le appartiene. Vabbè, assolutamente. Quanto meno è coerente. Più che di sinistra lo ritengo un discorso di buonsenso. Perché poi la democrazia, se non è concreta, rischia di rimanere una democrazia formale e non sostanziale. Due cose. Tanto sinistra va bene. Di sinistra lo sappiamo, però prima ha parlato di un centro-sinistra allargato, quindi è favorevole a... Di un campo largo. Esatto. Il campo largo che va, insomma, da... Che deve coinvolgere tutti quelli, e sono tanti, che non si sentono rappresentati dalla candidatura dell'attuale vice-sindaco e che, pur non essendo di centro-sinistra, ritengono che questa città debba cambiare verso al governo locale. Quindi dobbiamo essere inclusivi. Io faccio parte di un movimento civico che, per sua natura, ha il suo centro di interessi nella città. Quindi la città va al di sopra di tutto. Gli interessi di riedi vanno al di sopra di tutto. E l'altra cosa che ha detto, che vorrei sottolineare, vorrei capire bene, è che, qualora, da adesso a gennaio, cioè a questo tempo, più o meno, mi pare di aver capito, no? Beh, chiaro. Sia per decidere le primarie, sia per decidere se ci sarà questo candidato forte, questa personalità forte. Sì, sì. Quindi lei, però, in questo caso, che farebbe? Io ritengo le primarie lo strumento, diciamo così, ordinario di selezione. Arriva la personalità forte, che fa lei? Ma io credo che sia giusto che anche la personalità forte si debba confrontare alle elezioni primarie. Cioè, non si esce? Io penso di no. Anche perché è un metodo... C'è una cosa che lo può far tornare indietro su questo, oppure no? È irremovibile. Primarie. Come dire, non bisogna mai essere irremovibili in nessuna posizione. Quindi è bene confrontarsi, è fondamentale la dialettica. Siccome non stiamo chiedendo di andare sulla Luna, ma stiamo chiedendo di fare quello che si sta facendo in tutta Italia, che il centrosinistra sta facendo in tutta Italia, la riteniamo, come dire, una considerazione, lo ripeto, di buon senso, che può aiutare la coalizione. Perché l'obiettivo nostro è quello di vincere le elezioni a maggio, l'obiettivo è quello di mantenere unito il campo largo del centrosinistra. Questo è l'altro aspetto che non bisogna mai dimenticare. Tutto chiaro. Andiamo adesso, sì, a capire un attimo quello che è successo nel centrodestra, che poi dovrete incontrare. Certo. Centrodestra ha visto le lacrime dei cicchetti. È stata un'immagine storica, un'immagine allo stesso tempo molto romantica, come è a cicchetti. Che ci dice di questo? Dopo tanti, tanti anni, cicchetti esce un po' dalla scena. Diciamo che la conclusione... Se non definitivamente, magari potrà avere ruoli in margine. Chi può dirlo. Esatto, però non si ricandiderà. Questa, naturalmente, è una scelta, penso, anche personale, sulla quale è bene che si mantenga il giusto riservo. Qual è il suo sentimento? Si conclude, secondo me, in maniera ingloriosa, perché questo mandato amministrativo è stato deludente sotto tutti i punti di vista. Cicchetti rimane nell'immaginario collettivo un sindaco che ha ben amministrato dal 94 al 2002, ma, come dico sempre io, in Italia dovunque vengono ricordati i sindaci che hanno amministrato dal 93 fino a metà anni 2000, perché nel 93 c'è stata la legge per l'elezione diretta dei sindaci ed era un periodo d'oro dal punto di vista finanziario, c'erano i trasferimenti erariali, nel 93 è stata istituita lì, quindi c'erano tanti soldi, era possibile fare tante cose, il sindaco era una sorta di monarca locale perché era stato eletto e quindi sembrava, come dire, pieno di poteri illimitati, non esistevano i controlli sostanzialmente della Corte dei Conti, c'erano delle congiunture economiche che hanno permesso a tutti i sindaci, che hanno amministrato in quegli anni di fare grandi cose e di essere ricordati come dei buoni sindaci, senza dimenticare purtroppo che poi i tanti comuni che sono andati al dissesto o che hanno rischiato il dissesto come il nostro, hanno vissuto quella situazione di disagio economico e finanziario in conseguenza probabilmente di quegli anni nei quali c'è stata una gestione dei bilanci comunali particolarmente allegra e questo vale per tutto, vale per Roma, per Napoli, per Tolino, per Milano e vale anche per Rieti. Abbiamo pagato colpe dei nostri padri, diciamo, no? Questa è la legge del cosiddetto, sì, del debito pubblico che poi c'è qualcuno che dovrà pagare. Se io faccio i debiti oggi, qualcuno domani li dovrà pagare. E vuol dire predissesto? Predissesto significa una procedura che evita il dissesto, che mette i comuni nelle condizioni di non andare in dissesto rispettando un piano di rientro decennale, che è quello che abbiamo fatto noi nel 2013 e che nel 2023 dovrebbe terminare se la Corte dei Conti lo permetterà. Perché lei si è trovato davanti a questa parola? Beh, noi ci siamo trovati di fronte al bivio, o far fallire il comune, quindi mandarlo in dissesto, oppure cercare faticosamente di salvarlo. Come ricorda spesso l'assessore, nonché caro amico Paolo Biglio, occhi, noi abbiamo vissuto l'amministrazione comunale come un padre di famiglia che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi tante critiche che ci sono state mosse erano critiche ingenerose, perché purtroppo dentro l'ente c'era questa difficoltà davvero di mettere insieme il pranzo con la cena. Rifarebbe quello che ha fatto? Rifarei quella scelta perché adesso il comune, dopo dieci anni, sarà un comune risanato, il comune non è andato in dissesto, abbiamo pagato tutti i creditori, non abbiamo chiuso servizi, anche in alcuni casi li abbiamo aumentati, penso al terzo asilo unito comunale. Una scelta che ci è costata, forse in termini di consenso, ma che è stata una scelta di buon senso e soprattutto di grande responsabilità. E io ricordo sempre il caso del comune di Alessandria, anche lì si votò nel 2012, nel 2013 il comune di Alessandria venne dichiarato in dissesto d'ufficio dalla Corte dei Conti e anche lì però l'amministrazione perse con un distacco clamoroso nel 2017. Quindi questo significa che la scelta che abbiamo fatto è stata capita da tantissimi cittadini rieti, non da tutti purtroppo, ma è comunque una scelta giusta, perché, come dicevamo poc'anzi, è stata fatta pensando alle future generazioni e non al nostro interesse, diciamo così, quotidiano. Tutto chiaro. La rieti Città Futura, che è il nome anche del suo gruppo, no? Sì, è il nome del gruppo consigliare e del movimento civico che in qualche modo prende le mosse dall'esperienza di Mettici del Tuo e dall'esperienza amministrativa del 2012. Mi ha incuriosito una parola che lei ha detto, inglorioso. Sì. No, inglorioso perché... In glorioso riferito alla fine... No, nel senso, sì, perché parlando con i cittadini, il giudizio su questa amministrazione è un giudizio abbastanza tranciante, anche e soprattutto da parte di chi ha votato questa amministrazione. Segno evidente che sono state tradite tutte le aspettative riposte in questa amministrazione e le tante e robovanti promesse purtroppo non hanno visto la luce. E questo lo dico davvero senza spirito di polemica, ma registrando quello che è, secondo me, dal mio punto di vista, il sentore abbastanza diffuso in città. C'è una cosa che hanno fatto bene, una cosa positiva che si sente di dire? Ma le uniche cose che stanno cercando di fare è realizzare, anche se con difficoltà e con grande ritardo, progetti, programmi e finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione. Io mi auguro che, ad esempio, possano inaugurare, prima della scadenza del mandato, l'ascensore che porta alla piazza Cesare Battisti, mi auguro che possano terminare entro la fine del mandato una parte dei lavori del grande progetto Rieti 2020, tutte cose che andavano fatte molto prima e che probabilmente già avrebbero visto la luce e ci fosse stata un'amministrazione un po' più efficiente. al taglio del nastro, no? A me no, a me non ha invitato nessuno, sinceramente. Al taglio del nastro poi di quale nastro? Magari dei lavori che stanno facendo a Camposcuola. A questo punto ci inviteranno, visto che i lavori sono in corso. Quello dell'ascensore devono invitare lei. Quello dell'ascensore, ma più che me, devono invitare i cittadini prima di tutto. E poi anche gli amministratori. Io quando abbiamo inaugurato le piazze del Plus invitai personalmente il sindaco Giuseppe Mili che disse ti ringrazio ma non partecipo perché ho deciso di non partecipare a iniziative pubbliche. Io mi auguro che se dovessero esserci delle iniziative farà così anche questa amministrazione, anche se non lo ha fatto, per esempio, nella circostanza dell'inaugurazione del nuovo pistino. Non mi sembra che è stato rimesso nessun invito né al sottoscritto né a nessun membro della precedente amministrazione. Mi sembra di sì. Donati ce l'ha detto qui alla Rana, però non ricordo bene. Forse hanno sbagliato l'indirizzo. Facciamo pace, quello che volevo dire. Ma assolutamente. L'interesse è quello dei cittadini. Non c'è nessun agrimonia e nessun... Assolutamente. Però lei boccia l'aggiunta proprio... C'è qualche assessore che è peggiore di altri? Ma io... Lascia pregiore di altri, come per dire... No, se li ha bocciati... Almeno peggio. Se li ha bocciati... Bisogna fare almeno peggio. Vuol dire... L'altra volta, se non ricordo male, feci un apprezzamento per appunto il consigliere Donati, che però... Che non è assessore. Che non è assessore. E un'altra persona che ha ben operato, secondo me, anche come consigliere provinciale, è Fabio Nobili. Guarda caso, anche lui non assessore. Evidentemente è stato fatto anche un errore quando è stata composta l'aggiunta, perché gli unici che a mio modo di vedere si sono comportati bene, stanno fuori dal governo, stanno a nostri ruoli. si dice che qualora vincesse il centrodestra, insomma, prenderà questa famigerata, contro una... Mi dispiace... Tra virgolette di assessore... Mi dispiace che gli sfuggirà per poco questa cosa. Per poco, eh? Perderanno per... Lo potrebbe fare con un'altra amministrazione. Perderanno per una manciata di voti. Lo potrebbe fare per... Perderanno al photo finish, essendo Roberto un atleta. Il cortomuso. Il cortomuso. Il web non dimentica, queste parole poi... Qualcuno le ritirerà fuori. Beh, ho perso io per il cortomuso, magari questa volta... Il verso cambia. Qui alla Rana però siamo così, le piace questo atteggiamento. Venga apposta, altrimenti non verrai. Eh, contento di stare qua. Sì, sì. Perché è troppo ingessata. Questa era la smissione è stata... Sì, sembra di stare un po' in un night club, eh, con questo... Eh, night club però avevano, se non ricordo male... Dei colori diversi. Dei colori diversi. No, però è sempre bella la location. Sì, sì, sì. Bene, bene. Abbiamo un po' divagato. Dicevo, qui non è... Siamo troppo ingessati, no? Avevi preparato un canovaccio che non abbiamo rispettato sostanzialmente. Ve lo faccio vedere, guardate, è tutto. Non è stato rispettato nulla. Niente, niente, niente. L'ha visto che Sinibaldi ha firmato un contratto, ho fatto qui, con i cittadini. Ah, sì? Eh, sì. Ha fatto cinque punti e poi alla fine ho messo delle vostille di non dire bugie elettorali. Ecco. Questo è già... E gli arrivo anche a lei, qualora... Assolutamente, ma che scherziamo. Esatto. Bisogna utilizzare il linguaggio della verità, altrimenti succede quello che sta succedendo. I cittadini si disinteressano e non vanno neanche più a votare, che è la cosa più grave. Bene, bene. No, chiudendo il discorso, che noi parliamo sì seriamente, poi si scherza tutto quanto, perché anche questo, secondo me, potrebbe far avvicinare il 50% che abbiamo detto che non va a votare perché è un po' disilluso, disinnamorato... Beh, arrabbiato, non si sente rappresentato. Secondo me si sente anche solo. Sembra un paradosso, ma la cifra... Ma lontano io lo vedo anche. Sì, lontano. La cifra di questa società della comunicazione, dove riusciamo con il cellulare a sapere tutto, rischia di essere la solitudine, la cifra di... E purtroppo il Covid ha aumentato questo clima di solitudine, perché anche di diffidenza reciproca, purtroppo. Adesso non sappiamo neanche più come ci possiamo salutare, se ci possiamo salutare, non ci si riconosce più, perché se stiamo con la mascherina... E' veramente una situazione nella quale stanno cambiando anche i comportamenti individuali. Qui sto dando un ruolo... Ma non servo io, ci mancherebbe... Anche alla stampa, no? E anche magari trasmissioni come queste che sono un po' scherzose... Una via di mezzo. Scherzose... Tra l'approfondimento... Esatto, esatto. Però nell'affrontare temi anche importanti, ma questo può avvicinare, no? Per esempio, si familiarizza di più. Io vedo molto nei talk che c'è questa distanza, questa cosa, non si possono dire questo politicamente corretto, che un po' annoia, onestamente, e non avvicina. Io penso che hai ragione. Così come io non ho mai tollerato nelle trasmissioni nelle quali i rappresentanti politici fanno finta di litigare e di insultarsi, poi spenta la telecamera... Si abbracciano. Come se nulla fosse. Quando in realtà bisogna mantenere una serietà. Non è serio litigare pubblicamente, così come non è serio, come dire, poi fare altre cose quando le telecamere sono spente. Bisogna cercare di mantenere un contegno, perché penso che questa è la prima cosa che i cittadini chiedono a chi ha l'ambizione di rappresentarli, perché poi la funzione che svolgono gli amministratori è una funzione davvero delicata, che è quella di rappresentare gli altri. Non è mai semplice, non è mai facile, ma dobbiamo provarci nel miglior modo possibile. I ladri di Pisa si chiamavano? Non così, però... Sì, sì, è vero. Per esempio dovete sapere che Petrangeli ama il calcio, lei è sempre della Roma, Petrangeli... Infatti sono del Livorno, appunto, sono contro i ladri di Pisa. Esatto, però ti fa la Roma. Sì, sì, beh, c'è una passione abbastanza profonda. Morigno è, diciamo così, una persona che ha rinsaldato il rapporto fra la tifoseria e la squadra, che è la cosa più importante al di là dei risultati. Bene, bene. Qualche laziale non la pensierà. Non la pensierà, però che ci importa. Vabbè, comunque, mi ha bocciato tutti gli assessori, mi ha bocciato questa giunta. Che voto diamo a questa giunta fino adesso, che si appresta alla conclusione? Ma siamo fra il non giudicabile e il 4,5, nel senso che alcuni assessori sostanzialmente lo sono stati solo sulla carta, perché non hanno prodotto nulla, quindi in alcuni casi non sono giudicabili. Ci sono anche visti poco alcuni assessori. Sì, assolutamente sì, ma non sono giudicabili perché hanno fatto talmente poco, se non nulla, che è difficile dare un giudizio sull'operato amministrativo. Va bene, poi i cittadini sapranno cosa... Come si suol dire ai cittadini, l'ardua sentenza. Sì, sì. Cosa si farà? Siccome anche il centrodestra ha ufficializzato una proposta, adesso lo farà il centrosinistra, bisogna parlare e guardare al futuro. Nel senso, prendere spunto dagli errori che sono stati fatti e cercare di guardare al futuro, perché questa città ha bisogno di guardare al futuro, non può essere una città che ha il torcicollo, dobbiamo pensare a cosa sarà Rieti fra 20-30 anni, perché questo è quello che ci chiedono soprattutto le giovani generazioni. Allora, oggi 9 dicembre. 2021. 2021. Quando sapremo se ci saranno le primarie e quando sapremo eventualmente un candidato sindaco del centrosinistra? Assolutamente nell'arco di pochi giorni. No, assolutamente prima. Le primarie, se si faranno le primarie, si saranno in gennaio. Sì, beh, secondo me, entro il 20 dicembre dobbiamo sciogliere il nodo e eventualmente fare le primarie entro i primi 20 giorni di gennaio, insomma. Non è tardi, eh? Ma il 16 gennaio si vota a Roma per le suppletive, quella è una domenica che potrebbe essere, ad esempio, un appuntamento per... Ma le primarie ti permettono, una volta che le ufficializzi, di iniziare già la campagna elettorale, e di iniziare comunque un ragionamento di colleganza e soprattutto un ragionamento di collaborazione e di interlocuzione con i cittadini. Bene, bella chiacchierata, abbiamo stravolto la nostra... Purtroppo non ho avuto occasione di parlare di cose interessanti, però... Non è di cosa, di cosa? Che ci ha sfuggito? No, non è... Una cosa che stiamo lanciando noi come Redi Città Futura e faremo anche una conferenza stampa è che riteniamo che le grandi opportunità che abbiamo legate al piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo paura che il nostro comune se ne stia disinteressando. In tutti i comuni d'Italia stanno nascendo... Ma come Emilia ha fatto delle conferenze stampa? ...dei comitati. Abbiamo bisogno di istituire una commissione che individui delle funzioni nuove dentro il comune di Redi, perché altrimenti rischiamo di perdere i finanziamenti, rischiamo di non utilizzarli bene. Perché se è vero come è vero che arriveranno tanti soldi, c'è bisogno di individuare delle funzioni nuove, c'è bisogno di una funzione propositiva e consultiva. Bisogna coinvolgere i cittadini, bisogna coinvolgere le categorie, bisogna coinvolgere le organizzazioni sindacali, bisogna lavorare affinché i soldi del PNRR siano integrati con i soldi del bilancio comunale e ci siano anche delle idee progettuali complementari, perché per usare bene i soldi c'è bisogno di un'idea di città, di una visione. Insieme a questo c'è bisogno di istituire una funzione di coordinamento e di vigilanza, perché ogni tre mesi bisognerà fare delle rendicontazioni, c'è il rischio che i soldi vengano tolti ai comuni che non utilizzano bene, quindi c'è bisogno di vigilare e di controllare che gli uffici comunali seguano le cose che vanno fatte. Su questo vedo troppo disinteresse, su questo non vedo l'impegno necessario. I soldi che arriveranno probabilmente non li rivedremo tra qui ai prossimi 30-40 anni, non ce li dobbiamo lasciare sfuggire e li dobbiamo saper utilizzare bene. Per questo dobbiamo organizzare il Comune ad hoc, dobbiamo fare in modo che ci siano delle strutture che si occupino solo del piano di resilienza e di ripresa e dei soldi che verranno anche al Comune di Riedi grazie a questo provvedimento. Molto bene, ma credo che questa sarà una delle prime cose che farà la prossima giunta, no? Andrebbe fatto subito, perché già stanno arrivando i primi soldi del fondo complementare, è la cosa che andrebbe fatta subito e poi andrebbe fatta vivere compiutamente nel prossimo mandato amministrativo. Molto bene. Siamo in chiusura al tempo, tiranno come si dice in questi casi, credo che ci sarà una sorpresa per lei. Sì? Che è successo? La telefonata? La telefonata, le passo il telefono. Le piace? Il nostro telefono? Il telefono, mi ricorda il film di Woody Allen sulla guerra fredda. L'abbiamo preso da lì? Bene. Prego, una telefonata per lei. Sì, ci dica un po' chi... O facciamo finta che non c'è nessuno. Chi la sta chiamando? Che siamo al bagno. La telefonata vera. Pronto? Ah, sì. Sì. Ah, la ringrazio, la ringrazio. Va bene, sì sì, come no, assolutamente. Sono a disposizione. Ma comunque ci sarà... avrà modo di recuperare. Non si preoccupi, grazie. Grazie. Ma niente. È un cittadino che tra l'altro conosco che insomma mi ha detto che si è pentito di non aver votato per me nel 2017 perché ha visto la città fare dei grandi passi indietro però insomma l'ho rassicurato, l'ho ringraziato gli ho detto insomma che avrà modo avrà modo e avrà occasione di recuperare quindi insomma spero di averlo convinto di averlo rassicurato soprattutto perché era molto dispiaciuto. Ci... Va bene. E forse è sempre lui che ha cambiato idea? Dai, aspetta. Regia, c'è un'altra chiamata o è quella di prima? Un'altra chiamata? C'è un'altra chiamata. Bene, sì. Non è mai successo. Devi telefonare. Pronto? Segretario. Salve. Come andiamo? Ah. Sempre al lavoro. Complimenti per il lavoro che sta facendo. C'è bisogno davvero di rimettere un po' in pista tutti eh? Eh sì, speriamo adesso che insomma che le cose si mettano... Enrico Letta, il segretario del PD. Sì. Ma speriamo intanto che si risolva pure questa vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica perché so che siete molto impegnati su questo. Ma qui a Rieti sì, insomma, ci stiamo dando da fare. Ce lo saluti. Saluti del direttore. Le porgo, insomma, le porgo. Ti porgo i saluti di tutta la redazione di Rieti Life e in particolar modo del responsabile, del direttore Emiliano Grillotti. Sì, beh, è quello che abbiamo chiesto noi. No, a Rieti ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo organizzando. Dai, speriamo di farcela. Ci vuole il contributo di tutti. Sì, anche il tuo e di tutti i rappresentanti del campo largo del centro-sinistra. Assolutamente. Di 5 Stelle, di tutti quelli che vogliono costruire un'alternativa. Assolutamente sì. Ti tengo aggiornato allora, eh? Va bene? Ok, grazie. Buon lavoro, arrivederci. Io adesso ridevo, ma non per Enrico Letta, che salutiamo. È perché siamo riusciti a creare un altro mostro. Evidentemente ci stavo ascoltando. Solo, vede, da un'idea magari banale, no? Esce fuori. Poi la cosa bella è che questo telefono tradizionale senza filo funziona lo stesso. Certo, funziona. Certo, questo è la magia vera. E noi siamo anche moderni, no? La magia vera è questa. La magia vera è questa. Unire digitale e analogico. Esatto, esatto. Enrico Letta ci ha chiamato. Sì, vabbè, insomma, voleva sapere un po' che succedeva a Rieti, tra l'altro anche lui... Ma perché ha chiamato lei? No, perché forse ha sentito il programma, anche lui ha detto, beh, come sai, il PD, insomma, è tradizionalmente favorevole alle elezioni primarie, anche lui ritiene, come ha detto in tante occasioni, che le primarie sono lo strumento più utile per sciogliere i nodi, anche per dare ai cittadini la possibilità di scegliere, quindi... Ma se lo dice Enrico Letta... Beh, questa è una cosa che dice spesso. Molto in alto, poi, no? Lo dice spesso e che io condivido molto, quindi mi ha fatto piacere che abbia telefonato. Va bene. Abbiamo creato un mostro, lo confermo, con questo telefono. Salutiamo Letta, salutiamo il cittadino di prima che si era pentito di aver votato per Cicchetti, uno dei quei pochi che hanno creato quel gap. Sì, sì. E che ha detto che la voterà per... No, ha detto che... Dice potrò recuperare e io ho detto penso di sì, ci sarà occasione. Votando per... Beh, votando per una coalizione che adesso si propone come alternativa. Ok, ok. Bene, noi abbiamo estorto tutto, tutto. È vero, Petrangeli, perché... Comportato bene, fatto degli slalom, dei dribbling. Beh, anche perché tra un po' aprono gli impianti a Terminillo, quindi bisogna iniziare. Forse. Beh, me lo auguro. Speriamo, speriamo per gli operatori. Salutiamo tutti gli operatori del Terminillo, tutti quelli che lavorano con questa nostra meravigliosa montagna e meraviglioso posto. Grazie Petrangeli. Grazie, buon lavoro. Alla prossima. Porta aperte qui a Riedi Life, come sempre. Abbiamo creato e l'abbiamo già scritto e pubblicizzato su riedilife.com, secondo noi il più grande mezzo elettorale pubblicitario. È a disposizione di tutti, già qui. Se volete venire a vedere di cosa si tratta e a prenotare, siamo qui e vi aspettiamo. Seguite tutto il nostro palinzesto, sfogliate, sfogliate il nostro free press che ogni mattina trovate nelle edicole, nei punti di interesse. Ci sono altre novità, altre cose che stiamo valutando. Uscirà il caffè, il nostro mensile pubblicitario bellissimo, non lo perdete a fine dicembre. Grazie, ci sarà occasione per farci poi gli auguri, per sentire tutti e per sentirci tutti questa grande comunità dei nostri lettori, ma di noi reatini. A giovedì prossimo. A Rieti e in tutto il centro Italia, esperienza e qualità da oltre 40 anni. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat ed il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabricanti. Sognare, inventare, costruire. Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Il primo e unico quotidiano cartaceo gratuito di Rieti è Rieti Life Free Press. Dal martedì al sabato lo trovi nelle edicole e nelle attività convenzionate che espongono la locandina e il dispenser. Cerca tutti i punti di interesse su rietilife.com e goditi ogni giorno il piacere di leggere il tuo quotidiano preferito con tutte le news di rilievo, le foto e tutta l'informazione della provincia. Rieti Life Free Press è gratuito. Cercalo e sfoglialo. Non costa niente. Rieti Life Free Press è gratuito. Rieti Life Free Press è gratuito.